Ciao, crocchette e bentornati nello spin-off di WCrossing, un programma che va in onda tutti i giorni su Radio Bequita Evangelica dalle 15.30 alle 17, ve lo sapete, noi parliamo di libri, di belle notizie e di tutto quello che ci sta in mezzo ma non c'è bisogno che stai qui a specificarlo perché è una cosa ormai risaputa siamo tornati qua in questo spin-off in cui approfondiamo un pochino le tematiche e vi faccio vedere in faccia intanto è una cosa positiva e questa settimana abbiamo parlato di una cosa molto bella siamo andati un po' in giro per i continenti e abbiamo visto le meraviglie del mondo, quelle nuove, mi raccomando le abbiamo guardate, le abbiamo osservate con il nostro sguardo e abbiamo cercato un attimino di anche aggrapparci a tanto i nostri ricordi perché? Perché è bello vedere che cosa il mondo e l'umanità ci hanno lasciato e cosa noi possiamo ancora ammirare che cosa noi possiamo ancora osservare con quello sguardo che ogni giorno ci percepisce anzi ci permette di crescere un pochino di più proprio per questo uno dei giorni che ho preferito di più è uno dei giorni che mi ha fatto ritornare alla mente una delle mie passioni principali, cioè uno ovviamente la creatività, l'immaginazione lo sapete a me è sempre piaciuto tantissimo fermarmi a pensare e immaginare degli scenari proprio apocalittici o anche proprio impossibili. È uno dei miei scenari preferiti grazie a un film da animazione che fa parte dei grandi classici e è stato ovviamente la grande muraglia cinese e siamo riusciti ad arrivare in Cina, è una cosa meravigliosa, è una cosa che anche in base un po' alle cose che sono successe nella nostra attualità, che ci hanno stravolto le giornate secondo me ci ha fatto bene. Ci ha fatto bene a Book Crossing e ci fa bene anche qua ci fa bene perché oggi parliamo di un libro, di un libro che è stata una chicca fondamentale per riuscire a capire un mondo che fa parte della nostra quotidianità ma che non sempre riusciamo a comprendere, ad entrarci dentro forse come vorremmo e proprio per questo il libro di oggi è Cinarriamo racconti sino-italiani, racconti di ragazzi che sono nati o cresciuti in Italia ma con origini cinese e questo arriva da un bellissimo progetto fatto da Oriente Alia che è una casa editrice ed è un progetto che ci ha permesso e ha permesso ai ragazzi di origine cinese che vivono in Italia, che quindi parlano, mangiano, hanno studiato e veramente hanno vissuto l'Italia al 100% di potersi raccontare e in questo racconto è venuto fuori una dualità, una crisi anche interiore ma anche una crisi identitaria principalmente questi ragazzi hanno voluto tirare fuori i loro turbamenti, hanno voluto raccontare la loro Cina che è diversa da quella che noi immaginiamo ma soprattutto è ancora più diversa da quella che ultimamente sui giornali, sui quotidiani, nelle notizie allarmanti di questi giorni è venuta fuori questo è un bellissimo progetto, una bellissima possibilità di entrare in un mondo che davvero è nelle nostre strade è nella nostra quotidianità e mi piacerebbe, anzi oserei dire anche è nelle nostre paure cercare di conoscere quello che non conosciamo, cercare di approfondirlo, farlo nostro e accettarlo in qualche modo quindi ci narriamo in questo gioco di parole molto bello, racconti sino italiani, orientali, edizioni e buona lettura grazie a tutti